Tra qualche settimana la Grecia si troverà a corto di fondi e i timori di un mancato pagamento dei debiti, leggi default, spinge alle stelle la tensione sui mercati. Il premio di rischio del decennale ellenico è schizzato sopra l'11,5%. Le banche greche, dal canto loro, sono ormai dipendenti dalla liquidità fornita dalla BCE. Ci avviciniamo ad una svolta. Con la fine di maggio lo Stato greco sembra sempre più a corto di liquidi e la prossima scadenza con il fondo monetario è già il 5 giugno. Si va verso un out-out che probabilmente costringerà la Grecia e i creditori ad una soluzione forzata. Atene però continua a tracciare una serie di linee rosse, tra cui la ristrutturazione del debito e l'abbassamento dei target di avanzo primario. Smentite le voci su una possibile proposta di compromesso da parte della Commissione europea, anche se qualche passo avanti, soprattutto su IVA e privatizzazioni, c'è stato. È chiaramente nell'interesse sia della Grecia che dell'Eurozona nel suo complesso raggiungere un accordo. L'unico scenario che prendiamo in considerazione all'interno della Commissione è quello di una Grecia che rimane nell'Eurozona, una Grecia forte in un'Eurozona forte. Anche per il commissario europeo all'economia è vitale trovare la quadra entro fine maggio. Questo mese il governo greco dovrebbe riuscire ancora a pagare stipendi e pensioni, salvo accordi in extremis, però a giugno i nodi verranno al pettine.